C'è il rischio concreto che la chiesa di Piazza Sant'Agostino a Gela perda i frati agostiniani e dunque di conseguenza potrebbero perdersi anche le numerose tradizioni che interessano il presidio. L'allarme è stato lanciato da Nuccio Mule, cultore di patria e memoria e presidente della locale associazione dell'archeoclub. Gli agostiniani sono stati già trasferiti per mancanza di vocazione, per mancanza di frati. Di conseguenza loro stanno chiudendo tutta una serie di conventi agostiniani, in particolare, se non vado errato, quello di Gela e quello di Benevento. Ovviamente i fedeli, che sono molto attaccati, ma non da tempo, addirittura dagli albori di questa fratellanza costiniana, non si rassegneranno a questa situazione. Molto probabilmente andranno ad occupare la chiesa e il convento, una cosa eccezionale e eclatante che solo così potrebbe convincere il padre generale che si trova a Roma a desistere da questo trasferimento. Mule ha già scritto a padre Luciano De Michieli, priore della provincia agostiniana d'Italia, e a padre Raimondo Francalanza del convento San Marco dei Padri Agostiniani. Il priore, padre Francesco, è andato a Malta per capire se sono disponibili alcuni frati di Malta a essere trasferiti a Gela in modo tale da non perdere questo presidio religioso agostiniano. Voi avvierete anche una raccolta di film? Ma arrivato a questo punto la raccolta di film non ha quel valore che potrebbe avere in un contesto diverso. A mio modo di vedere l'idea dei fedeli di occupare la chiesa e il convento, un'occupazione che non sarebbe solamente simbolica, potrebbe far desistere il padre generale agostiniano di lasciare questo presidio agostiniano a Gela. Nulla vieta che le feste classiche che sono legate a questa chiesa, quella di San Giuseppe in particolare e quella di Santa Rita, si svolgono in maniera differente, non con quella enfasi e con quel seguito di fedeli che prima si poteva avere. Conferenza dei sindaci ieri a Catania per la prima volta dall'istituzione della città metropolitana. Una cinquantina i rappresentanti istituzionali presenti, tra cui l'assessore comunale di Gela, Francesco Salvinitro. C'erano anche i componenti dei comitati di Gela, Piazza Almerina e Niscemi. La prima cosa di cui ha parlato Bianca è stata appunto la diffida ricevuta da questi comuni a non indire le lezioni nell'ente intermedio e ha detto che va rispettato il volere di queste popolazioni e che la città metropolitana attende queste comunità. Quindi ha detto all'intera conferenza che scriverà al presidente della regione, al presidente dell'Assemblea affinché questi si adoperano a fare il passaggio al più presto di queste comunità. Il sindaco metropolitano ha comunicato di aver invitato alla seduta costitutiva i sindaci delle città di Gela, Piazza Almerina e Niscemi che attraverso il referendum popolare e altre due votazioni consigliari hanno espresso la volontà di aderire alla città metropolitana di Catania, così come Licodia e Obea ha intenzione di aderire al libero consorzio di Ragusa. Possiamo definirla come una vicenda vergognosa, una pagina brutta per la storia della Sicilia perché parliamo di rappresentazione democratica da parte di questi quattro comuni. Ciascuno di loro ha fatto due delibere consigliari sottoposti al referendum. Abbiamo fatto votare in Sicilia 32.000 elettori per questo passaggio di quattro comuni e poi la regione siciliana decide a un certo punto di mettere tutto in stambia e attendere. E questo non è bello, lo vediamo anche, abbiamo visto come la Gran Bretagna abbia decisa attraverso un referendum consultivo, non confermativo come quello abbiamo fatto noi, di uscire dall'Unione Europea e già si stanno avviando le trattative per l'uscita della Gran Bretagna. In Sicilia purtroppo assomigliamo sempre più alle dittature africane o le ex dittature sudamericane piuttosto che assomigliare ad una nazione europea. Dunque sostanzialmente Enzo Bianco si farà portavoce dalle vostre stanze e nei tavoli istituzionali? Ma non solo Enzo Bianco, abbiamo sentito anche gli interventi di alcuni sindaci dell'area catenese, tra cui alcuni molto distanti da noi, parliamo di sindaci dell'area etnea e ionica, a difesa di queste scelte e di questi comuni. Noi rappresentiamo per la città metropolitana una risorsa, per noi la città metropolitana rappresenta una risorsa, quindi è un guadagno reciproco per entrambe le comunità. Lions Dance è pronta ad approdare a Rimini al campionato nazionale di ballo. Con quante coppie vi presenterete? Siete pronti? Diciamo che siamo pronti. Presenteremo sette coppie agli italiani, coppie che ballano da un bel po' di tempo. Tra l'altro c'è anche il maestro della Lion Dance, oltre a me, il fratello Mirko, che parteciperà al campionato italiano. È una gara abbastanza difficile, dove ci saranno moltissime coppie. In una categoria, la 19-34-2, sono 163 coppie, quindi è un po' dura come gara, però penso e spero che andrà bene. Sarà sicuramente un'esperienza formativa per i vostri allievi? Sì, perché già siamo reduci di campionati, campionati provinciali, regionali, e diciamo che già sono abituati a queste gare, a queste competizioni. Già questo qua è il settimo anno che andiamo consecutivo, quindi già siamo esperienti nel campo. Da sollevamento pesi alla danza, qui insomma avete un presidio che è sempre aperto a tutti i giovani, un punto di riferimento anche del quartiere. Sì, sì, parliamo qua a Settefarine, stiamo aprendo questa palestra nuova, che facciamo danza, sollevamento pesi e karate abbiamo quest'anno. Quindi insomma tre discipline per impegnare in maniera positiva il tempo di tutti i giovani del quartiere e non solo? Sì, sì, effettivamente possono venire da tutte le parti, non è un problema, noi li ospitiamo tutti tranquillamente. A quando un campionato di ballo nazionale a Gela? È da vedere questo, è un po' difficile ma da vedere. Se l'amministrazione comunale concede, noi lo facciamo. Definirlo proficuo è poco. L'incontro di ieri tra comune di Gela, regione siciliana ed Eni, che si è svolto a Palazzo d'Orleans, alla presenza del governatore Rosario Crocetta, ha dato i frutti sperati. Sono stati infatti sbloccati fondi per il porto rifugio, 6 milioni di euro per il ripristino funzionale della struttura portuale. Altri 200 mila euro serviranno per creare le infrastrutture necessarie all'utilizzo delle acque dell'Aragoleto a favore dell'agricoltura. I soldi fanno parte dei 32 milioni di euro delle compensazioni Eni. Il vertice palermitano sugli oneri di compensazione per Gela conferma le direttrici d'azione reclamate dal territorio. Salute, sistema portuale, agricoltura e opere di urbanizzazione sono i quattro assi sui quali concentreremo gli investimenti per la città, ha detto il sindaco Domenico Messinese. Dopo che la settimana scorsa il presidente della regione siciliana ha firmato la delibera per perimetrare l'area di crisi complessa per l'accordo di programma, ieri ci siamo incontrati a Palazzo d'Orleanza dove si è parlato di poltualità, finalmente sul posto si è stato raggiunto un'intesa, è stato verbalizzato per investire gli oneri di compensazione, circa 5 milioni e 8 per poter fare tutte le opere sia di intragaggio ma anche alcuni interventi strutturati, mirati che non mi vanno interventi strutturati nei piani eventuali di sviluppo della partialità su Gela per poter utilizzare nuovamente il nostro posto. È stato indicato come attività della protezione civile che ha redatto pure il progetto e che in tempo in premi si attiverà per poterlo mettere in campo. Si aspetta la prossima settimana per stilare l'abbolto del protocollo che sarà visionata e speriamo nel giro di due o tre settimane di dare la firma per poter mettere a disposizione le somme che Leni già fin da sotto ha detto che è disponibile. Dunque, portualità, agricoltura, urbanizzazione delle aree cittadine e l'avvio di un istituto di ricovero e cura per patologie da industrializzazione. Al tavolo ieri hanno partecipato Bernardo Casa, responsabile delle raffinerie Eni, la delegazione parlamentare gelese a Lars, il presidente del consiglio comunale di Gela, Alessandra Acia, vari consiglieri comunali e i rappresentanti dei comitati del porto di Gela. Come comitato ci riteniamo molto soddisfatti. Finalmente abbiamo visto la conclusione dell'iter autorizzativo e anche la disponibilità economica per quando riguarda la candereabilità del porto. Quindi a breve inizieranno pure i lavori. Ma come si svilupperanno i lavori che riguardano il porto rifugio? Sì, per delucidare un po' il progetto parliamo dell'allungamento del braccio di Ponente, dell'escavazione totale a 4 metri e mezzo, di una frangivento che garantisca che non si zabbia più il porto, ci sarà la rimozione della New Rose e quindi la fruibilità totale del porto rifugio. Adesso finalmente possiamo parlare di un progetto che potrebbe realmente partire a Dragna. No, io non dico potrebbe, io dico partirà perché ne siamo convinti, siamo certi della rassicurazione avuta ieri e speriamo che da qui a fine anno, perché i tempi tecnici saranno non credo, non meno di un semestre, vedremo finalmente la Draga a scavare e vedremo finalmente un po' di luce per la nostra città che ha bisogno di risorse come il porto, di tutto quello che possa essere e portare benessere alla nostra città come un porto fluibile tranquillamente, quindi turismo e quant'altro. Dunque si potrebbe muovere un'intera economia? È ovvio, tutte le città che hanno il mare, non avendo un porto l'economia è morta. Abbiamo un esempio vicinissimo Licata, Licata si è ripresa l'economia in maniera esponenziale, quindi speriamo che anche Gela avremo finalmente questo porto e quindi rivedere la nostra vecchia economia come era prima. Per la prima volta a Gela c'è un infoturist, l'anno ideato e realizzato la Proloquo e il gruppo archeologico Geloi in collaborazione con il Museo archeologico regionale e la Casa del Volontariato nell'ambito delle attività del cantiere Gela. Informazioni utili ai visitatori che raggiungeranno la città del Golfo saranno dispensate dagli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo. Tutti i visitatori possono venire a prendere le informazioni anche perché sono creati dei percorsi turistici ben stabiliti e questo permetterà al visitatore di poter apprezzare nel modo corretto tutto quello che c'è da vedere nella nostra città. Avete seguito un corso di formazione e che cosa prevede la vostra attività? Di dare informazioni ai turisti che vengono a visitare il nostro museo archeologico. Noi abbiamo seguito un corso di formazione presso la Casa del Volontariato e siamo stati formati da Giuseppe Raspina e noi con questa formazione ci siamo preparati per accogliere al meglio i nostri turisti. Per un mese noi avremo al museo questi studenti che non solo dovranno conoscere il nostro museo ma anche divulgarlo. Un'operazione che non è sicuramente semplice perché un conto avere delle convinzioni di come è il nostro museo, di come è strutturato e qual è la nostra storia ma divulgarlo, trasmetterlo, quella che è la loro esperienza degli altri non è una cosa sicuramente semplice. Questo sarà sicuramente un compito propiettico che è quello che potrebbe essere anche un'opportunità di lavoro futuro per questi ragazzi stessi. Saranno attivati i laboratori collaterali dedicati all'innovazione e nei beni culturali con la partecipazione degli studenti del liceo scientifico Elio Vittorini. Abbiamo realizzato due percorsi in particolar modo, uno con l'Istituto Alberghiero che riguarda le attività di promozione e di accoglienza all'interno del museo, quindi dare anche delle informazioni importanti a quelli che sono i visitatori che verranno durante quest'estate, l'altro percorso con il liceo scientifico che praticamente va a realizzare delle attività di innovazione nell'ambito dei beni culturali. Interamente i ragazzi stanno partecipando alle attività e promuovendo un laboratorio, una serie di laboratori per l'innovazione, per eventuali innovazioni da proporre appunto in una vetrina museale, con l'interfaccia da potersi realizzare con le moderne tecnologie cellulari o anche iPad e altre tecnologie appunto in cui è possibile applicare tramite software dei sistemi innovativi per la lettura e le fruizioni dell'opera d'arte. In particolare proprio la movimentazione per esempio dell'opera d'arte o la realizzazione di ologrammi che consentono appunto una fruibilità a tutti i livelli dei reperti più importanti e più significativi. L'alternanza scuola-lavoro serve proprio a questo, serve a far conoscere al ragazzo il mondo del lavoro. L'esperienza scolastica è una cosa, l'esperienza lavorativa è un'altra. Quello è il pezzo mancante che la scuola non riesce a dare al ragazzo. Con l'alternanza riusciamo a colmare questo piccolo ombro. Visita del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba ieri alla Casa del Volontariato di Gela. Nel corso di un interessante dibattito moderato dal sociologo Francesco Pira è stata affrontata la discussione relativa alla nuova legge per il terzo settore prospettive sfide dell'Italia solidale. La rete di associazioni di volontariato che opera in Italia spesso arriva dove non arrivano gli enti pubblici anche a livello locale. Quali sono le prospettive di sviluppo per questo settore? Con la riforma che abbiamo approvato da poco da parte della Camera in via definitiva noi vogliamo dare uno statuto chiaro a tutto questo mondo perché le istituzioni hanno il dovere programmatico di sostenere nella crescita, lo sviluppo, la qualificazione perché proprio sono in grado queste organizzazioni di rispondere a tanti bisogni che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti di essere vicini ai cittadini più deboli, di proteggere l'ambiente insomma di costruire quei beni comuni che fanno la qualità del vivere di tutti. E quindi io credo che la riforma sarà una spinta forte e a riconoscere questa grande realtà e dall'altro lato a qualificarla e a farla crescere. Faremo un registro unico delle organizzazioni dovremo distribuire in modo diverso i sostegni anche di carattere fiscale dovremo dare una nuova forma all'impresa sociale dovremo potenziare il servizio civile. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati e che adesso con i decreti legislativi diventeranno norma operativa. Sarà possibile ad esempio anche per la gestione ci viene in mente una materia dei beni archeologici o delle aree archeologiche stipulare dei protocolli di intesa con le associazioni, visto che in Sicilia uno dei problemi più importanti riguarda proprio la fruibilità di queste zone? Sì, infatti una delle norme dice che potranno essere affidati a queste organizzazioni e a queste associazioni dei beni di carattere pubblico che magari sono abbandonati, inutilizzati o scarsamente valorizzati proprio perché questo straordinario patrimonio non degradi ancora ulteriormente ma diventi una ricchezza per il Paese. Sfrutti le nostre telecamere. Cosa vorrebbe dire all'esercito di volontari che in Italia a volte è stato anche determinante per la risoluzione di tantissime situazioni soprattutto in caso di calamità naturali? Prima di tutto voglio ringraziarli perché sono diciamo una ricchezza e un sostegno per il Paese dall'altro lato direi che la politica sta ascoltando con attenzione il valore di queste realtà per farle diventare una rete ordinaria della vita di tutte le nostre città, di tutte le nostre comunità. Le nostre comunità saranno più belle, più vivibili se avremo anche tante forze volontarie tante persone che si dedicano all'impegno civico e associativo. Non è un piano viabile adatto né secondo me ai residenti ma nemmeno alla città perché non c'è nessun piano di evacuazione perché ricordiamo che la strada del Lungomare è una strada di sicurezza appunto in caso di problemi nell'Indotto e nell'Eni per evacuare tutti i residenti della zona Lungomare, Ospizio e via Cristoforo Colombo quindi già è impossibile secondo me bloccarla pensare di farla ad un senso diventa un manicomio anche perché qui noi residenti siamo dei topi bloccati siamo dei topi in gabbia ecco. C'è il divieto di accesso per 500 metri ecco infatti io stamattina a Amo Medio ieri ho parcheggiato la macchina come giusta regola in una zona giusta e ho trovato il divieto di accesso con un annesso di vieto di sosta. Noi siamo giunti qua con l'altro consigliere Scerra a verificare di persona cosa sta succedendo infatti io sto parlando con alcuni residenti io dicevo questo ma se esistono i comitati di quartiere che vengono cioè danno indicazione all'amministrazione all'aggiunta di poter fare perché non sono stati coinforti prima di fare queste variazioni? Alcuni residenti che mi hanno chiesto stamattina di allarmati dal fatto che sono stati cambiati i sensi di marcia e quindi mi hanno chiesto di parlare direttamente col sindaco infatti io assieme al consiglio napolitano siamo scesi abbiamo cercato di raggiungere telefonicamente il sindaco il quale devo dire che tempestivamente ci ha raggiunto e ha spiegato le motivazioni per cui è stato fatto questo cambio di marcia abbiamo prefissato l'incontro verso la fine di luglio per capire se questi cambiamenti vanno bene quindi possono andare oltre oppure devono essere rivisti siamo intervenuti nelle vie a nord del lungomare da via Vasile a via Matteotti invertendo di fatto il senso di marcia questo per consentire subito dopo la festa della Madonna di poter inibire una carreggiata del lungomare per poter consentire di avere un traffico più cinello è chiaro che questi cambiamenti porteranno dei disagi momentanei sicuramente residenti o alle abitudini dei gelesi che sono abituati a fare una strada magari da anni però per fare dei cambiamenti bisogna avere questi momenti di transizione per vederne la validità quindi oggi stiamo facendo queste variazioni speriamo che ciò che è stato scaturito dall'analisi sulla carta e anche venga confermato dai risultati che avremo è chiaro che un periodo di transizione potrà fornire potrà dare dei piccoli problemi comunque oggi già ci sono i vigili urbani ad indicare i nuovi sensi di marcia perché giustamente molti magari guidano in modo distratto e non si rendono conto della nuova segnaletica ma fra qualche giorno sicuramente potremo vedere che magari certi disagi che si registrano in questi giorni per questo me ne dispiace sicuramente saranno superati l'obiettivo è quello di rendere il lungomare intanzitutto più scorrevole di consentire di avere una corsia libera in caso di emergenza perché effettivamente fare l'isola pedonale sul lungomare non è facile proprio per la viabilità che abbiamo ereditato però mi rendo conto che avere una corsia libera sul lungomare può consentire sia di snellire il traffico ma anche di poter intervenire in caso di urgenza ed emergenza quindi questi cambiamenti sono soprattutto verto sulla tutela delle persone perché meno macchine e un traffico più scorrevole sicuramente significa meno smog e una corsia per poter accedere rapidamente significa sicuramente una celerità ma sia ce ne sia bisogno speriamo di no però l'importante è prevenire e non invece fare le analisi dopo che succedono qualche disgrazia il comune di Gela deve acquisire tre importanti strutture realizzate in città dall'ex provincia di Caltanissetta si tratta del Palalivatino, del Cartodromo e del Parco di Montelungo la richiesta è stata avanzata al sindaco Domenico Mersinese e al presidente del consiglio comunale Alessandra Cia dalla segretario degli Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Gaeta Nominardi le strutture sono abbandonate a se stesse dunque quale migliore occasione per il governo cittadino appropriarsene e renderle fruibili Noi abbiamo ritenuto opportuno inviare una lettera al sindaco al presidente del consiglio comunale e anche ai gruppi presenti in consiglio comunale gruppi politici per chiedere al sindaco di attivare tutte quelle procedure relative all'acquisizione del Cartodromo Palazzetto dello Sport e il Parco di Montelungo riteniamo che sia importantissimo per il nostro territorio che ormai versa in condizioni pietose economicamente parlando di attivare questa procedura perché queste tre strutture potrebbero essere un rilancio anche per l'economia che purtroppo l'economia nostra è disastrata quindi facciamo appello alla sensibilità del sindaco e speriamo che si faccia sentire e che si attivi subito perché potrebbe essere un'occasione da non perdere E' indispensabile creare strutture per valorizzare il territorio continua Minardi o in questo caso rendere utilizzabili quelle che ci sono il Cartodromo, il Palalivatino e il Parco di Montelungo rappresenterebbero poli di attrazione per numerosi cittadini e non solo Ci permettiamo anche di stimolare l'amministrazione comunale il sindaco e i consiglieri comunali tutti ad attivarsi in favore del territorio perché non ci possiamo continuare a perdere con tutti questi cambi di sensi di marcia vediamo di cambiarlo veramente il senso di marcia Gela cercando di attivarsi per fare qualcosa per il nostro territorio qualcosa di attivo per il nostro territorio Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale dice la sua anche in merito alla vicenda raffineria Noi non ci abbiamo mai creduto come partito politico che in questa riconversione o quella riconversione della raffineria poteva essere la panacea di tutti i mali per l'economia di Gela infatti siamo ancora qua ad attendere le assunzioni siamo qua ad attendere che l'ENI tramite questa operazione rilanci il territorio io sono qua e siamo solidali con coloro i quali hanno perso il posto con quelli dell'indotto perché così facendo Gela l'abbiamo detto in varie occasioni è destinata allo spopolamento Dalla rotonda est all'altezza di piazza Trento vari punti doccia sono stati installati oggi attivati dalla Gela molti servizi sulla litorale giolese che costeggia il lungomare Federico II di Svevia l'amministrazione comunale ha così voluto garantire anche questo servizio ai bagnanti che hanno iniziato ad affollare le spiagge la stagione estiva entra nel vivo docce che sono state fatte in collaborazione con la GELAS utilizzando materiale di recupero e andando a utilizzare sostanzialmente delle infrastrutture che erano state abbandonate da anni con intervento minimo siamo riusciti finalmente a dare questo servizio che credo sia importante per il litorale di Gela quindi queste nuove punti doccia rappresentate da due doccine e due lavapiedi per ogni punto che è stato collocato partiamo praticamente tutto il lungomare dislocati in diversi punti sono disponibili in modo free, in modo gratuito e credo che sia una cosa gradita per i cittadini e per chi ci viene a trovare un servizio che veniva chiesto da anni ma che molte volte non veniva dato io voglio sottolineare che è stato realizzato con materiali di fatto di recupero a basso costo sono resistenti alla salsedine quindi se con un po' di civiltà sicuramente questo servizio può rimanere attivo per diversi anni è un'altra piccolissima cosa perché sono tante piccole cose che alla fine messe insieme fanno le grandi cose anche questa è una cosa farsi la doccia uscendo dal mare è qualcosa di gradevole farla anche gratuitamente lo è di più solo una raccomandazione con i cittadini non sfasciatela tenetela bene perché serve a tutti noi altrimenti ci costringete a spendere soldi in direzioni che abbiamo già risolto invece di fare altre cose importanti quindi un appello in questa direzione non rompete le cose pubbliche perché valgono molto di più delle nostre perché non servono solo a noi ma servono a tutti sì, un altro piccolo tassellino nella direzione del fare di risolvere le questioni che ci attanagliano iniziamo. iscriviti al canale